Sabato 17 settembre al Caneto Beach di Leporano si esibirà l'americano David Morales, nome di spicco del dying internazionale vincitore di un Grammy Award nel 1998 come miglior remixer che con i suoi DJ set fa ballare il pubblico di tutto il mondo e che con la sua musica ha caratterizzato l'house music degli ultimi vent'anni. Nato a Brooklyn, il più popoloso dei 5 distretti di New York, nell'estate del 1961 è stato fin da subito appassionato di musica. Già da piccolo è iniziato a frequentare i party e i club storici della Grande Mela, in particolare il Loft e il Paradise Garage. Proprio qui ha conosciuto il DJ Rally Levan, considerato l'inventore dello Steelhouse Garage, amico e collaboratore del noto Frankie Nautilus. Crescendo in questo ambiente, spinto da una forte passione, ha pian piano abbandonato l'attività di cuoco, da lui intrapresa, e ha cominciato la sua esperienza come DJ, esibendosi prima in feste private come matrimonio, feste di compleanno, per poi arrivare all'Hawson Bar di Brooklyn e al Red Zone di Manhattan. Durante queste sue prime performance, oltre a curare la sezione musicale, usando contemporaneamente tre giradischi di una drum machine, realizzava remix dei dischi che selezionava. Così in pochi anni si è avvicinato all'ambito della produzione e insieme al compianto Frankie Nautilus, ha fondato la Deathmix, etichetta con cui collaborano Satoshi Tomi ed Hector Romero. Le hit realizzate da David Morales sono numerose. In Daghetto, Needing You e How Would You Feel sono solo alcuni dei brani di successo da lui prodotti, e tante sono anche le collaborazioni con artisti del panorama pop, tra le quali Madonna, Rita Franklin, Mariah Carey, Michael Jackson, Seal, U2, Gianmi Roquei e Bjork. Nelle sue performance, questo DJ americano, tra i giudici del programma televisivo Top DJ 2016, in onda sull'emittenti Sky, propone un viaggio nella musica house degli ultimi anni, proponendo le tracce da lui realizzati, i remix pubblicati e i lavori inediti. A riscaldare la pista, prima della performance di David Morales, in console ci sarà il DJ tarantino Paolo Conte, noto per le sue selezioni soulful. In voce per tutta la notte ci sarà Maria Enrica Lo Tesoriere, cantante del gruppo Camera Soul e vocalist di alcuni club più esclusivi della paglia.